Una proposta di intervento sulle pensioni che ha già provocato tanti distinguo e un po' di confusione. Il progetto proposto è quello di un taglio alle cosiddette pensioni d'oro, cioè superiori a 80.000 euro l'anno, in pratica 4.000 euro netti al mese. Il criterio è di penalizzare chi ha anticipato l'età di uscita dal lavoro, sia per chi lo ha fatto in passato che per coloro che andranno nei prossimi anni. Verrebbe stilata una tabellina in base alle speranze di vita e sarebbero interessati anche coloro con 40 e più anni di contributi, ma in una fascia d'età diversa dalla nuova fissata. Il provvedimento interesserebbe sia i lavoratori dipendenti privati che quelli pubblici, ma anche gli autonomi. Resterebbe il rebus dei professionisti che hanno delle proprie casse previdenziali. Dal taglio alle pensioni d'oro sarebbero esclusi magistrati e docenti universitari, visto che la normativa prevede la possibilità di andare in pensione a 70 anni d'età. Tra i più penalizzati, le donne, i militari, visti criteri anagrafici più bassi per poter andare in pensione e in generale coloro che hanno abbandonato il lavoro a 60-61 anni d'età. Sul progetto regna però tanta diffidenza anche tra le file della maggioranza giallo-verde e in tanti sono preoccupati da una possibile pioggia di ricorsi legali. Ed anche Alberto Barambilla, esperto previdenziale, consigliere del vicepremier Salvini e secondo in iscrizioni prossimo presidente dell'Inps, mostra idee diverse. Io se potessi non farei nulla, nel senso che lascerei tutto così. Detto questo bisognerà vedere se all'interno dei dati nella legge di bilancio riusciamo a trovare delle somme per incentivare l'occupazione dei giovani, delle donne sopra i 50 anni e degli over 57 in generale. Se bene, non dovessimo trovarle, si potrebbe ipotizzare un contributo che va a un fondo per l'occupazione, che quindi può anche essere come dire digerito dai pensionati che magari hanno figli e nipoti che non trovano l'occupazione per un massimo di 2-3 anni.